I di StreamElements hanno detto che hanno rebuttato il mio bot e che dovrebbe dire il nome giusto, adesso vediamo. Sai che faceva l'annuncio con il nome sbagliato, connessione a EA App? Ma chi te l'ha chiesto? Basta! Ma perché ti stai aprendo Origin Fasullo? Questo va bene. Ehi, Doctor. Guardano lì con tutte le emoticon. Ah, c'è poi Paolo che ha chiesto se sabato facciamo giapponese, no, il giapponese l'ho aggiunto io, ma... Vediamo. Eh, ci starebbe. Io ho una settimana che ho voglia di sushino. Sushino! Volentieri. Se non capita niente, volentieri. Ha caricato anche... E sbocca. E sbocca. Allora, uno... No, che belle, queste sono nuove. Tan tan tan. Boom. Ah! Absterga. Ah, puoi mettere anche l'artista di chi l'ha fatta? Non so, l'ho appena vista. Vediamo quella lì, Paidactor. Anche Paidactor ce l'ha. Legplant no. Come fai a vedere... Eh, passandoci il mouse sopra. Ti esce il Po Pappino. Eh, non lo so, forse. Il Po Pappino. Po Pappino Pirepen Pem Poo. Pam pam para para pa pa pa. Allora, intanto vediamo... No, devo comprare l'arma... La Strix 7, no. Allora, vediamo cosa c'è... E torna, madonna. Tun tun tun, turu tun tun, caricatore, perfetto. Niente, estensione della canna. Mamma mia, che tristezza. Livelo 9, bene. Silenzio terra, canna corta. E l'Obelisk, livello 13, bene. Nell'arma. Quale ti sei comprato? La Strix 7. Quale cazzo è la Strix 7? Eh, la... L'ottava. Non ti dice il nome... Ah, si si blocca... Ah, Strix? Si, si si blocca a livello 25. Io sono mezzo livello sotto. E sono 28. Eh no, comunque Stream Elements... E' proprio uguale. Certo, certo. Vabbè, c'è tre livelli in più. Non sono neanche tanti. Sì, infatti ho fatto quella quantità lì quando abbiamo finito alla banca in... Nella difficoltà alta lì, in Overkill. Pare che il fatto che non si risettino le cose... Cioè, che non rimescoli le cose nei reset, che sia intended. Ah, bene. Non è d'accordo, Lorenz. No, non sono d'accordo, però... Mi fido. Per me sarebbe più facile dire così, è intended, così non devo fixarlo. Sì, però... Molto semplice. Ci ho messo, sai, tre settimane a far funzionare un gioco. Capisci, non tocco più niente, sennò si rompe. E' fatti. E' così. Tun 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 tun. Figa colpa, 61 di 639. Sto guardando le sfide. Ricchino bello. Riccuno. Trastura... Non riesco a parlare. Non fare... Ma intanto, vediamo che colpo potremmo fare, poi. Abbiamo fatto la banca, il diamante... Che colpo potremmo fare, io. Ecco, alla botte. E' uno al cerco. Esatto. Scegli, Lorenz, discoteca o banca? O bancona. Facciamolo a bancona. Bancona. La discoteca l'abbiamo appena fatta. Bancona. Dun 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 dun... La discoteca l'abbiamo appena fatta e mi sono fatto chiamare. Fornitori, setaggi, agente di cambio, tu li compri questi? Allora, aspetta. Fornitori è l'ultimo, poi. Fornitori è l'ultimo, poi. Ah, no, non l'ho ancora mai comprati. Devo comprarli? Ma penso che si resettino settimanalmente. Eh, c'è scritto... Quattro giorni. Sì, so, sì. No, era più lunga della settimana. Eh, magari B settimanalmente, non lo so. Secondo me sì, perché sono quelle monete che hai di fianco... Che hai di fianco al... Con quei processori, tu. Servono per alcune cose estetiche, da quello che ho visto. Tipo i guanti, per il momento. Nuovi guanti scavezzacollo 2. O scavezzacollo 3. Che sono letteralmente dei recolor. Non so, ste maschere mi fanno tutte cagare. Ne vorrei una. Eccolo. Ti devo invitare. Ce l'hai ancora? Ho appena accettato. Ah, infatti, perché non mi... Non fornesce nessun messaggio. È un po' bruttino, per quello. Fa un dentro, non lo riesco a capire. Sì, sì, no. Vedo che si entra da in basso social. Però non mi dice quando lo sei. No, sì, infatti, è una minchiazza. Lollo. Eh, di lì qualcosa. Potrebbe esserci un problema. Oh no. Lollo non c'è? No, no, non mi fa clic... No, non mi fa cliccare su colpi. Tutorial funziona, colpi no. Vabbè, ho capito. Io ho cliccato prima. Allora, il resto funziona. Allora, abbandono, abbandono. Vediamo se adesso funziona. Adesso è funzionato. Io adesso sto in questo menu. Non apre social. Non va indietro, ok. Adesso funziona di nuovo o no? Riavvio il gioco. Ma porca cazzana. Niente, Lollo non vuole giocare con noi. Esattamente. Zanzan. È invitato Rick, così quando arriva Bonino invita anche lui. Ti è arrivato? Ah, ok, dicendo a Rick. Però sono collegato in questo esatto istante. Ok, che rispondo. Adesso senti soltanto questa canzone qua. Invitami pure, Lorenz. Fatto. Hmm. Lo rifaccio. Meglio. Lo rifaccio. Eccolo. I am. Saluto. È il nostro annuto? Però. Quindi abbiamo detto... Golden Shark. Allora, Golden Shower. Golden Shower, esatto. Allora, pubblica. No. Overkill. Beh, per me possiamo farlo. Possiamo provarci in Overkill. Non è un problema. No, dai. Facciamo la... Oh, difficile. Voglio farlo. Cosa cambia la difficile all'incubo? Che c'è... Te lo dice quando cambia la difficoltà, però... Il nucleo dice Herbero. I runtime del hacking si risettano dopo 5 secondi. Quindi niente telecamere contenute. Più difficile questa di... Infatti del... Di Overkill, scusa. Overkill cos'ha? Eh, Overkill, videocamera in titanio... Ah no, c'è anche questo. Ha sempre Herbero. Ok. E quindi non c'è il tipo che gira costantemente, però. Non c'è il tipo che... Sì. Proviamo. Proviamo, se vogliamo. Proviamo. Allora, la cosa che ci conviene è seccare il tipo della sicurezza. Almeno il problema videocamera è risolto. Wow, level 28 noob. Sorry, Bacon. Quale level sei? Quale è tu? I can see, maybe here. No, I cannot see from the... The page, the social page. Let me check. Guarda, level 12. What are you doing for me? Accesso all'ascensore. Io ho l'accesso all'ascensore. Completamente inutile. Però forse ci aiuta per la fine. Per portare via i soldi. Dipende. Also, give me that invite. I'm not the party leader. 74? In Italian we have to say for this, cagafogo. Cagafogo? No, it's not entirely Italian, but you know. Translated directly in English. Ma come non è pronto? Eh, non so. Translated directly in English is like fire shitter. Devo prendere qualcosa? No, va bene così. No, tanto proviamo a farla in stealth sempre. Se vuoi provarne una a fare in loud, Rick, devi solo dirlo. No, no. No, no. È meno... Rick è sempre non pronto. Poverino. Che è sto casino? È sempre il suono che c'è all'inizio qua, che dovrebbe essere, credo, tipo un tram o una metro. Ed è orribile. Allora, letteralmente, Rick, dobbiamo... Entrare in questo cavo qua, incredibile. Guarda, guarda, guarda che come mi investono questi. Dobbiamo entrare, ripetimi. Dobbiamo entrare, adesso quando entri dentro ti faccio vedere qua è tutto pubblico. Senti, dobbiamo fare tutta una serie di... di Trigomini per trovare questa carta qua. Your lobby is open, you know. I didn't have the... It was in my lobby. E dobbiamo trovare un codice per entrare lì dentro. Adesso ci dice dove devi mandare. Ah, ecco, c'è lì. E dobbiamo... Adesso dobbiamo trovare dei codici QR e dei telefoni che ci sono in giro. Perché gira così male oggi? Immagino che Lorenz... L'ho già trovato. È trovato una stanza da ficcare a pugni. Ma... E fammi usare sto codice QR. Dovevo vedere se riusciamo a vedere dov'è la stanza della security. È nel... Nel cavo. Ah, è dentro? Eh sì. Ah, già è vero, già... Non è detto, ma sì. Quindi... Eh, da. Sì, beh, alla fine è utile per... Il retto di coglioni che... Mi si dice per evitare di beccare... Di fare attenzione alla telecamera mentre fai avanti e indietro. Con i brassoni. Sì, sì, è più utile. Sì, sì, per carità. Ricordandoti che comunque tu hai il... Che... Se hai la maschera... È una rotola di balle, comunque. Sì, sì, sì. Ah, io ho aperto una porta. Forse non dovevo. Wait a seconda. Non è qua il computer. Quindi, nelle risorse umane, lì? Sì. E cos'è la solita... Non mi segna qual è interagibile? Guarda i cartelli. Il cartello dice che è lì, da quella parte. Allora, Rick, non so che cos'è quella porta. Io stavo accogliendo soldi. Va bene. Ah, sì. Allora capite, sei in... C'è solo questo di risorse umane? Ce ne sono di più? Ah, eccolo qua. Un culo. È l'unico computer che non abbiamo ancora visto. So, how are you, Bacon? How are you? Ho trovato un codice QR, intanto. Ed è... È Eren Yeager. Eric Yeager, assistente di banca. A Yeager dovrebbe essere di lì, in fondo. Praticamente noi facendo questa operazione troviamo chi è che ha una car, una keycard e glielo andiamo a inculare. Esatto. Well, my party is back on, Igor, no? I rubed the storm last night. Have you managed to finish the... Watch the camera. Ehm... De... Eh? 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 De Marathon? Guard! Eh, se non mi ricordo male, sì, è quello dell'altra parte del corridoio. No, I just go back on my computer for the first time, sì. Oh, ok. Eh, why... No, quello è una guardia. What do you mean? Do you... Eh, I did something happen, I don't know. Eh, dai, fammi acerare quella cazza di telecamera. Allora, cosa vedono i miei occhi da elfo? Assolutamente niente. C'è un cellulare se vuoi. Tu prendi che non si... Vabbè, voi prendete che non si è mai. Occhio perché potrebbe entrare anche qualcuno in questi... Eh, banca assistanta. Non lo so, secondo me è per il loud. Allora, come stanno le gambe? Ma normali, dai. Eh, mi stanno... No, non posso adesso. Ciao, Monica. Aspetta. Arrivo, due secondi, sì. Arrivo. L'office banca assistanta è verso il back. Grazie. Ciao, ciao. bella stasera che è avvenuto è venuto lì c'erano e con i figli dovrebbe guardare a me se dovresti fiammami il cazzo ma ma e no ha ragione ha detto che non ha pungine così piccole ma cazzo ti guardi eh ti spezza la faccia a coglione ti riempi di boh eh ne so appena dai dai su uno vi uno io e te monica ti saluta ciao monica se quello stronzo ti degna di girarsi vado a rubarvegli il coso vado a provarci almeno intanto sto inculando un telefono guarda che è solo un'area privata quindi al massimo mi buttano fuori se non mi beccano fare un'azione illegale esatto tipo respirare si respirare è illegale stai avendo vita difficile boni non possiamo fare qualcosa ma stavo guardando non ti girare mi raccomando tizio rispondi al telefono no si è girato però mi hai ignorato va bene nice guarda il sieve cosa bisogna fare dobbiamo trovare la cascata magnetica assai dentro ma lì è un'area riservata qua qualcuno può entrare no questa è un'area privata qua nessuno ci dice niente cioè ci dicono qualcosa se ci vedono ma ci scortano all'esterno vedere come è messo quel tipo guarda il sieve chi vede chiaramente appena entriamo ok devo andare qua aspetta che l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista il pixel illuminarsi possiamo entrare così ok qua è privata di nuovo quindi bisogna fare attenzione ai ai pulotti si scortano fuori qua si i numeri utilizzati sono 2,5 e 6 l'ho vista 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 c'è un guard ma dobbiamo trovare la sala se yes dai quanto ci vuole perchè mi vede come va a vederli? mi sono fatto sono io sono io però mi assegnava come fosse a me figa allora questa è la sala computer vai su qui la telecamera che cazzo tu hai? i civili non ci dicono nulla giusto? no i civili no no se non ti vedono fare un'azione illegale no che sono quelle pingate di quel bordino rosso la sala server è la scheda blu forse? eh no la scheda blu è l'ufficio del ah no l'ho trovata nice c'è una guardia lì che non so dove sia andata è ancora lì perfetto cazzo 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 hanno sgammato me vabbè l'importante è che non è stata una nella sala server ecco dobbiamo poi riuscire a evitare che la gente dopo entri una volta che facciamo partire l'hacking si muove questo qua? non ne ho idea ma in teoria se tu non devi essere lì perché credo che se il pc sta facendo cose e tu non sei lì non sia un problema penso allora se quello si arriva dal cazzo preferirei comunque lo sto pingando da un'ora ok io riesco ad entrare questo sta tornando su eh attenzione me lo ripingo vediamo dov'è c'è un va a uscire poi dalla stanza mentre lo fai chiudi la porta fatto figa ma si è bloccato lì perché guarda che roba guarda tranquilla guarda che gente mi sa che se arriva qualcuno lo secchiamo potremmo che si manca anche se non sono dentro però perchè possono vedere il computer che si muove e vaffanculo fammelo pingare come suggerisce a banni potremmo spegnere il monitor ehi chi siamo noi ah ero di là io che ho scassinato di là ma poi mi ha sghiamato la guardia vado subito stare cucciati ogni tanto è veramente mi sono passato sui piedi tra poco dovrebbe dovresti poterlo far ripartire o foro riparte da solo non mi ricorda devi farlo ripartire merda ok siamo quasi io c'ho uno qua non mi sa che non posso entrare beh è un civile quello no no però aspetta se noi non riaccendiamo il computer non succede niente è solo se l'hacking è attivo quindi fai fai solo attenzione che quello esca per direttivarlo quando vuoi puoi farlo eccolo ciao scusa passa ma coglioni vediamoci i codici e tre possibilità di codice per il per quelli c'è mai tanti battetti sì 9000 9000 6552 dove lo vede vaffanculo insetti in alto no tanto è inutile adesso ok aspettiamo arricchia così apriamo la porta si lo vede ti vedono ok prego a lei l'onore di aprire la porta e dopo è un'area riservata e se ci sgama qualcuno siamo esatto attenzione che c'è gente sopra guardalo lì e telecamera lì e mi sembra strano che non ce ne sia più di uno onestamente ma a te la testa era blu puoi aprire esatto ho già aperto il coso se vuoi che mi mascheri io no no non serve mascherarsi al momento beh se vogliamo uccidere il tizio delle telecamere si ma io per adesso eviterei sai e sta girando metto il loop ai 5 secondi si ma è camera occhio sopra non è il caso di andare no ho pingato solo non l'avevi messa in loop sappilo ai 5 secondi ma non è vero madonna no anche meno come sai io adesso eh infatti l'ho vista è diventata rossa e poi subito guarda non sono 5 secondi questi vai il tipo è lì eh ok adesso abbiamo trovato i quadri elettrici tipo quelli della banca ti ricordi? aspetta però se vuoi guardarlo è qua eh non conviene c'è la guardia superità che guarda verso di noi no non so dire che c'è un'altra e aspettiamo qua che si che se ne vada tanto puoi fare il giro di lì infatti appena mi vede mi ricordo già più l'interruttore vado a vederlo io rosso eh vaffanculo che non mi puoi vedere c'è una guardia non ho potuto pingarlo ok eh uno lo vedo davanti qua e lo faccio faccio io rosso non è vero c'è una guardia che guarda proprio verso di lì no vado vado dentro e guardo i cosi poi no è solo il primo rosso ok io posso attivare uno rosso che faccio vai fallo no no ok l'ho fatto io vi dico qual è il prossimo viene ovviamente no devi cambiare pannello ci sono quattro pannelli uno era all'interno qua della zona del cavo sottosservazione da chi? scamato sono io scusami Lorenza è verde e chi mi sta vedendo? chi? che non c'è nessuno che mi veda mi spiace agente mi spiace non volevo ho completamente ragione il prossimo bianco un attimo che c'è la telecamera mi accompagni nella zona in cui io posso essere così che possa tornare qua e lei porta a me di nuovo fuori ok Lorenza adesso può stiamo facendo un colpo in banca? adesso vi dovremo dei soldi ma questa cosa non gliela dovevo dire ah vabbè adesso ricordiamoci di non correre lì dentro perché sennò ci si sgamano e anche tu devi mandare un'activazione bianco vabbè vaffanculo è questa ha il tuo vabbè dai che sei vicino all'uscita Stai spalla Io ho acquistato la radio così meno erano tutti i coglioni Voila Quindi cosa E' qua sopra E' qua sopra il tipo Eh si è spostato Vieni qua vieni qua E adesso è lì E adesso sta andando di là Ovviamente Dobbiamo aprire Aprire la porta del cavo vado Ah ti è la tua camera Ah devi fare Per cazzo si apre scusami Da lì Non avevo letto scusatemi Vado nell'ufficio del direttore Ah dobbiamo fare la cosa del direttore prima Mi ricordavo che prima dovessimo interagire E poi andare nel direttore Ma evidentemente mi sbaglio Eh interagire era spegnere i laser Che ho fatto io Sto andando Che è quello che ti ricorda Sto andando A prendere Un carrettino Però Allettamente qua Rick Fai attenzione qua Che chiudi la porta Pieno di spesa Voila E questo è super rapido Tra l'altro C'è ancora tempo Quale è la guardia? Camera Tu ne hai abbastanza ceccato questo Comunque O fallo chiunque Sì Lui è ceccato Sì O forse no Vai lì è al pannello No devo Sì 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 No Scheda blu Arriva arriva Ti può fare se ti vede Ma Quello puoi fare Tu Non si gira più Qua la telecamera Di merda Mi sta guardando Mi sta guardando Mi sta guardando la telecamera Grandissimo Sei cinque secondi Perché poi riparte Non si gira Mi ha visto Tra l'altro Guarda Cioè perché Non si gira più C'è una telecamera Anche dentro Questa è nuova Attenzione È lì Lorenz Ok sì Mi nascondo dietro i soldi Allora quindi Quei soldi lì Sanno gli ultimi Che possiamo Prendere Possiamo seccare Il tipo adesso Allora È perché Così meno ci nascondiamo Dieti i cash Ma non so se conviene Lorenz Perché poi devi Girare con la maschera Vito che devi girare La maschera Che cazzo Io già Cordo dei soldi Sì no Come fai a vedermi Che sei punti Meme No no Ah ok Qua possiamo prendere Tutto quello che vogliamo Sì Riene giusto per comodità Dico Di Prendere Per gli ultimi soldi Mi puoi vedere Che meno male che non mi prende fino a qua la telecamera fuori va Cioè poi secondo me è semplicemente il triplo più scomodo girare con la maschera E se no prendo questa bella statua Senti la posso guardare la telecamera Non posso guardare la telecamera Qua poi Allora prendiamo questi soldi qua Anzi no prendiamoli Poi quando capita Ok 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 Che Che Sì volevo portare giusto l'obiettivo per primo O hai tu il server Rick Si ha il server E non lo so E non lo so E archivi eccolo qua C'ho io Uno degli oggetti che abbiamo rubato E dai che c'è la Stai away from the camera Il tizio dov'è? Non si sa Non lo so C'è una camera Vaffanculo Pensavo fosse Perché stavo pensando Pensi se in questo qua Ancunto a meditare hanno fatto che il tipo Va giù Iniziavi l'ascensore secondo me è buttare i soldi Eh ma secondo me poi senza telecamera non potevi Cazzo Questa è un'area privata Eh sì Però non ti dicono un cazzo neanche in quel caso Se vuoi Rick da dentro C'è la Ah c'è la Lei è aperta ok Mi spiace gente Lei ha completamente ragione Non so come ci si arrivi Lei me lo deve dimostrare E da dove hai rubato i cash Scusami Porto questo sacco pieno di soldi Che ho appena rubato il cavolo In altra parte Guarda che Da dove siete passati qua Donate la mignola Un attimo eh Oh capito Ho scassinato tu all'inizio C'è l'accesso ai garage C'è la guardia lì E c'è anche un tipo lì Cioè lui è lui comunque C'è la telecamera Sì Attenzione c'è la telecamera Appena esci Che dovrebbe guardare proprio di qua Quasi E c'è il tipo delle macchinette Che viene proprio verso di lì Quindi fai il giro che fa Lorenz Non vedo più dove la guardia Si viene in faccia a me è sicuro C'è una guardia poi quando uscite appena qua E un'altra qua E un'altra qua Guarda qua Guarda qua Vabbè niente Vabbè se vi vede pazienza Se vi vedono lì Pazienza Lestardo Togli quel cellulare C'è figata Ma come? Mi sta facendo il video È giusto Sono bloccato C'è uno tipo Non ho qua Io sono chiuso Aiuto Ah sì lì è un po' una merda Ok va prima nell'angolo Prima di andare lì Guarda te lo faccio arrivare qua Ma dov'è? Ma che due coglioni Ti avevo visto la gente Scusami Sui agente Però muoviti E non venite giù dalla scala del garage Ok Oh se volete aspettate un attimo Guarda Guarda qua Questa è una guardia Questa è una guardia 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 Agente io non so di cosa sta parlando Non sono mai stato in questa zona della banca Guarda il guardia Guardia là Guardia là Piazza di p***a Piano piano non corro Guarda Eh Siamo fottuti No, 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 aspetta, aspetta, aspetta Forse posso, se arrivi in tempo, forse posso fare il hacking No, no, una pastona Eh, sì, a lui A lui Perché non puoi correre Perché se corri, fai casino E lui si Scusa, perché dici che sono fottuti Guarda Aspetta, 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 aspetta Merda, no, cazzo, Lorenzo, stava carando Scusa C'è un problema Adesso possiamo uccidere Quello delle telecamere Eh, possiamo uccidere solo più uno Eh, possiamo anche Non farlo, allora, piuttosto Tu sblocca la porta L'ho sbloccata E adesso i borsoni ve li portate voi Esatto E lui dobbiamo E scappo e basta No, vabbè E lo aiutiamo Gli pinghiamo le guardie Se volete io I civili I civili gli dicono qualcosa Sì Sì, sì Ti porta dalla parte della scala del garage Ah, chiedo scusa Mi spiace a gente Non me ne frega un cazzo Sì, mi porti via Ha ragione Sì Ti porta dalla parte della scala Ma è passata dal pacchetto Quindi dite che è più difficile Sì, è più lunga anche Sì, è più lunga anche Sì, non mi permetterò che ti guarda Vieni, seguimi Sì, continuiamo Sì Guardi, qua Sono qua Sono nella Repubblica Guardi Guardi Aspetta, andami dietro Che quando si gira Ti vede Quando va giù dalla scala Ti vede Scusa, io voglio Poi passare al pacchetto Perché sono in testa di cazzo Guardi il guardo Guardi il guardo Non è impossibile Secondo me è più scomodo Non scappare dalla guardia Non mi ha visto Qualcosa ti ha visto La telecamera? E la guardia ti sta cercando Quindi devo farmi trovare? Sì, così a me ti fa Porta fuori Se no avvia la modalità di ricerca E la prima volta che qualcuno di noi viene sgamato Viene Arrestato subito Male Sto dicendo Che sai dove è finita la guardia sopra? Cioè L'Urans che ci sta Ci sta facendo fare un rimming da quella guardia Non so dove sia andato proprio Vero? Perché secondo me Quella guardia sopra quale? Quella guardia che girava sopra Quella che è andata di corsa A sentire il suono Di qualcuno che camminava Chi cazzo i borsoni ci sono? Non lo so E ancora? Ormai Se c'è nessuno Non è detto che non ci sia Sì, non è detto che non venga Non venga a replace Avvicinarli perché mi sta venendo il tribio Sì, possiamo lasciarli sulla scala qua Tipo O dietro E beh, te li avvicino io No, cosa ti avvicini tu Lorenzo? I borsoni fino lì li avvicino io Tanta cosa cambia Cerca meglio di lanciarli dove vede la telecamera Sennò fa Davvero? Ma anche nel 2 lo faceva Cosa sta vedendo esattamente te? Cosa sta vedendo? Cosa sta vedendo? Cosa sta vedendo? Guarda 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 Ma dai, ma che le telecamere sono un po' troppo forti senti vado a uccidere il tipo delle telecamere come vuoi se vogliamo tenerlo per evitare i problemi va bene aspetta se tu ti stai rompendo i coglioni va bene ma certo che mi sto rompendo i coglioni ma aspetta scusa no è tanto uguale ci sono certe cose che puoi fare uno solo aspetti mezza partita avrei potuto provare ad hackerarlo così dovrebbe interrompere la sua azione e riprendere la sua routine normale hackerando la radio del tipo però doveva essere a portata è sicuramente lì che si guarda le macchine c'è una persona che sta con te nonno vede la menta uscire con dei bossoni cioè se non sono delle cime non è proprio la cima quel tipo lì sta guardando il telecamere ma è che sta guardando il cellulare io continuo a hackerare questa telecamera così rimane sempre girata verso il club quanti ce ne sono ancora? o due? anche questo è intended e ti dà un pugno vabbè non è colpa mia non è colpa mia no ma era un pugno così forte e di rimando tu saresti arrivato da Ice-T a dargli un pugno e lui di rimando al dev che non mi ricordo come si chiama Amir Almir Samir non dormire fa più lui allora adesso che mi tolgo da te la guarda se n'è in qua avete portato via tutte le borse no meata tecnicamente si adesso andiamo ad aiutare Lorenzo a uscire dove mi conviene passare secondo voi? secondo me dal dal coso di garage perché c'è meno meno civili di qua qua ci sono solo due guardie che fanno avanti e indietro se ci fai tu qua più che avanti e indietro sta lì e basta aspetta 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 perché c'è ancora adesso di qua per una guardia potresti passare questa guardia sta fanno indietro adesso sta uscendo vediamo da che parte va dovrebbe andare di lama adesso vieni 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 e adesso quando passi ti accro la telecamera vai passa dove sei ok se tu fai il salto la corsa col salto e crouch aiuta molto di più allora c'è la guardia subito qua davanti la telecamera vabbè vai su Lorenzo vai su si viene di qua perché è la parte più vicina vai qua dentro posso passare? si puoi passare vai lì dentro il mio problema sono che anche i civili rompono il cazzo quindi e lo so attenzione anche a quelli poi giù ma perché secondo me è meglio se passi dalla parte che fa la guardia e adesso ci vorrà un po' perché questo scenda giù ok puoi cominciare a uscire stai lì nell'angolo qua nell'angolo qua perché non mi pinga? era stato anch'io prima non pingava dei posti guarda questo famiglia che giro fa e torna di lì e poi aspettate chiaramente guarda la camera oh è andato via no però il problema è che Lorenzo può passare di là passa passa perché? di qua si non ce ne sono guys i civili lo vedono questo civile qua lo vede quel civile là lo vede può passare o no? prova a passare adesso vieni di qua vieni piccati qua qua nell'acqua perché va questa vieni 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 bello voilà adesso hai capito Rick perché ti ha detto di non correre io pensavo che arrivasse a cercare il muore guarda lì è dentro il cavo guarda i soldi infatti lui entra nel lui viene a vedere il rumore si gira vede i borsoni per terra e chiama l'allarme e 22k così liberi quindi vogliamo fare quella quella loud guida pericolosa come volete andava bene Rick si si scusa allora aspetta un attimo vedete cosa fa incubo videocamera in titania i momenti i momenti possiamo fare i momenti quasi possiamo fare anche in overkill però hanno più vita e fanno più danno non mi ricordo male ah un punto abilità aspetta magari mi far rifaccio la cosa no ma chi se ne frega è bene puntabilità dove li spendo l'albero dell'abilità è un po' un casino in questo praticamente devi sbloccare le varie le varie categorie hacker tattico stratega eccetera eccetera ricercandole e una volta che hai messo uno o più punti in quell'albero lì tipo in hacker tu guadagni esperienza che va verso quell'albero lì e sblocchi le varie cose in tutto l'albero quindi se se tu non hai punti tipo io non ho nessun punto messo in falciatore ad esempio il il le abilità non si sbloccano mentre io infiltrato ce l'ho al massimo ho l'estofante al massimo hacker al massimo così ho giocato prendendole così prendendole nel culo finché possiedi fuori torno subito intanto che fate il vi sollazzate l'esperienza che guadagni giocando quando hai quando hai almeno un punto in quell'albero lì arrivo scubito grazie a tutti Grazie a tutti. 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 E non è più in silenziato. No. No. Grazie a tutti. Nice. Bravo. E' più in silenziato. ho le munizioni. No. E' più in silenziato. L'inizio andava bene. prima prima che... che sono in silenziato. che è in silenziato. è in silenziato. vedete. in silenziato. in silenziato. in silenziato. va bene. in silenziato. in silenziato. E' più in silenziato. 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 dove hai tu bonnie? 9. Madonna. E' assolutamente. perché io posso comprare un altro car? perché potresti metterlo. un modificio diverso no questo lo potevi fare già nel 2 con cosa no questa non mi serve ok non dici no questo non lo voglio voilà ok io ci sono quando volete adesso anch'io come la volete fare troviamo incubo troviamo incubo è meglio di overkiller o peggio? è più easy di overkiller io dovrebbe essere più easy dun 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 posso cambiare il personaggio? ok così l'ho scambiato nice si vola ah fanculo non ho preso vabbè la bolsa medica non l'ho comprato io arrivo subito vada vada tutti i bambini con i piedini vanno a camminare con Gesù ok e comincio perché come si dice vai 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 c'è tempo è a tempo set up the EMP and make sure no civs escape or we're done before we even get started ok vai da solo va lì ok 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 è in un posto diverso la le EMP a quello che va sotto anche da sia questo dispositivo pigenerico ecco lì il veicolo e dai che è già lì ok 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 Non usiamo troppe munizioni qua perché tanto qua non possiamo più dai che interrompe l'animazione picchino c'è da fare e deve sempre ricaricare madonna santa che non danno una sega di munizioni no da due volte a me a me differente dipende dall'arma che hai però grazie venite qua vi lascio l'armor e ci fatto anche cartella al cecchino e fare il giro a da qua o no dallas però eh bro eric che non hai preso l'armatura è lì no no eh madonna ma quante sberle è Dallas però che posto di merda dove morire Dallas perché Dallas non lo possiamo lasciar morire perché boh chi mi sta beccando merda c'è shield morto chi mi sta beccando dove poi io muoio ve lo dico lasciatemi qua 7 colpi e c'erano le munizioni da qualche parte ma chi mi sta beccando che non c'è nessuno mamma mia andiamo verso i boni ce lo fai cambio ostaggi per riprendere e per risorse vogliamo scambiare qualche ostaggio se volete voi se ce l'abbiamo ancora erano da qualche parte qua gli ostaggi non siamo arrivati non lo so non mi ricordo qualcuno ha qualcosa da deployare che può essere utile vita morte miracoli borsone di borsone di borsone neanche io io avevo l'altra rovetta ma mi sa che ha fatto poco metteva super potenziata cercare quel cazzo di cecchino laggiù che che è morto finalmente tipo anche lui tra un po' esce perchè l'abbia spinto qui in qua sotto? perchè il punto debole è shot e mi ha sparato già vittà che devo sempre ricaricare tanto dura l'altra cosa boh chissà guarda anche la mia di vita Lorenz si ah si anche infatti non posso dare la mia mano per la kill si puoi perchè non è carica e se hai un lanciagranate attenzione che fa danno anche a noi ehi la che bellissima ricca è la sesta volta che vedo questa ricarica di merda no 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 devo ricaricare madonna perfetto io sono morto definitivamente cioè tra 120 secondi arrivo c'è la mia arma overkill tra Lorenz e il eh ma tanto non ci faccio un cazzo c'è un kit medico su il tavolo Lorenz quanto devo aspettare perchè uno di voi si salva io ho 85 secondi beh è 90 ma non ci fallisce davvero no perchè Lorenz è ancora vivo ci eh ok però ci tipo non smontano non no no c'è gente lì davanti a te Lorenz eh sì ma volevo un 50 secondi stanno stanno è un altro che dall'altra parte del container c'è non so dove si è andato ma ho visto la sua schiena è dietro quella cassa davanti a te io ho 26 secondi no ho visto quella farla che mi c'è non esatto non andare dal cieco non farti vedere dal cieco sei abbastanza safe qua ah guarda lì la mia torretta in mezzo alla strada che va a fuoco e aspettami qua aspettami si si muoio adesso muoio adesso arrivano tutti qua si perchè siamo tutti noi qua adesso siamo tornati con le stesse zoas si però più vita mi dico il cecchino non mi vedo ok cecchino dove cazzo è il cecchino scusami dai ma figa dai ma figa ok cecchino è morta alleluia l'organizzazione si vuol dire che non spawnano più per un po' ma quelli che ci sono vanno ancora eh si 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 se vedete qualche kit magari e c'erano in qualche container quelli chiusi tipo ma non so dove siano finiti allora voi andate e pensate all'obiettivo io adesso e dai che devi sempre ricaricare va bene ma sta bucando sto roba no sto scattinando dito bene io muoio appena arrivano quindi a non morire è un uno sposo di bitter un armatore un po' sicurale quindi ah mi devo buttare ai bossoni è meglio di no no quelli che li portano indietro dovrei aver chiamato anche io un arm over che se volete se me la faccio prima di morire ok eh guarda stiamo quasi alla fuga in realtà si è lanciare il segnale è libero non devo stampa e ricaricare sta cosa è senza un segno eh però no ah niente è troppo difficile da fare senza delle build un po' perlomeno senza le armi giuste le armi sono tutte schifre è stato bello è stato bello è stato bello è stato bello disinstante ma come? se ti sconnessi si dal e voi li provate a riprovarlo? senza cambiare niente? no no non credo ditemi voi ma non credo per me si può risolvere per me si può risolvere sono i prime day eh cosa avete comprato? assolutamente niente perché mi sono mi sono dimenticato che aveva tanto per gli sconti che ci sono super utile ah ho livellato adesso sono 10 punti non 9 beh allora la cosa dell'ingegnere e fammela leggere invece di fare tutto il giro madonna ah ok il proprietario della terretta può riprendere in qualsiasi momento per ripristinare il suo calore a zero e rischierarla ok ok come si può riprovare se volete è uguale è uguale ditemi voi ha difficoltà più bassa ha difficoltà più bassa ha difficoltà più bassa o anche questa non lo so ditemi voi scelete voi per me va bene dai ti vola se lo riprendo solo non c'è divisione trama primaria e secondaria sta cosa mi fa schifo si si su quello ti do ragione ah vero aspettate però mi cambia una roba che io devo avere sta pistola silenziata ma è tanto posso avere un po' come secondaria no eh no eh magari nel 2 c'era l'abilità che ti permette di mettere le primarie come secondaria non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma dun 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 cosa mettete? metto medica metto armatura io ho munizioni va bene è stupido non poter togliere il pronto eh tra l'altro è abbastanza stupido no no ecco ci hai provato Bonnie ok cazzo le videocamere si prendono in titania come facciamo? tra l'altro non c'è una videocamera in questa infatti si il problema qua è che tanto più sali più sono difficili da uccidere i titoli esatto ma in realtà passano la stessa vita ma ti fanno solo danno di più boh non so questo stiamo sulla clock siamo sulla clock fino a circa 30 secondi fino al transporo arriva sicuramente che l'EMP sta installata e che non ci scavano altrimenti siamo f***** vai giù coglione chi mi vede va da li scusami chi c'è c'è qualcuno ad? chissà Non è qua, non è lì sopra Scusi ora, il driver attivirà l'alarm As soon as he's figured out something's wrong Coldi Andate facendo un mega colpo ma Si può già aprire il cancello No, mi sa di no Queste sono le altre due scale Ampe Chi c'è? Chi mi ha visto? Ah sono io che ne ho preso uno in mano Eh ma l'ha detto me Con violenza tra l'altro aggiungerei Però Arrivo Tutto lontano sono andato senza accorgermene Stacca stanna Stanna Che ci stanno tornando Questo va di lì Qui va dritto di là Non va sul coso Guarda che c'è il cecchino Un altro Ah lo stai seguendo tu, ok Non capisco perché stessi muovendo Ah Da attivare Un secondo Un secondo Madonna Ma che cazzo mi ha fatto con la canata? 32 munizioni e poi davvero blindato vale così tanti uomini morti beh sì, hai visto quattro dentro ci sono dei tipi degli elementi rari per fare un giro di lì e si blocca e togli chi dà il cazzo eh dai dov'è che mi sono bloccato madonna ho perso mezza vita per cercare lo suo con lo stronzo eh ma infatti non so se con quanto convenga cecchini, due cecchini laggiù, uno fatto, l'altro ho il camion davanti ho chiamato la doma overkill ma qua ho capito come funziona in che senso chiami e te la lancia da qua che fa si, te lo fa anche vedere qua io sono qua dietro e c'è un sacco di gente se riuscite bene se no a shelly io sono mezzo morto qua c'è, eccola è la mia qualcuno te l'ha ammazzato ma e dai figa attenzione dietro quanta testa c'ha questa due, uno, voilà guarda come sono messo male c'è che cecchino eh va bene resisti Rick scambio ostaggi per far rilasciare i compagni di squadra ma ti segna dove sono? eh io pronto a nasconderli corro a vedere se attenzione Lorenz che c'è ancora gente cioè loro sono ancora vivi eh vado lì bam adesso lo ripendo con ostaggio non ho scosto non ho scosto un altro ma non mi ricordo dove ma siamo a posto adesso tecnicamente eh possiamo risolsi ok vai allora un medic kit è lasciato a terra e si può migliorare eh ah io posso buttare una borsa per armatura e io farò che fare dai fammi salire prima che passi questa tonza vedete l'armatura ricca che domani è un cazzo buoni è abbastanza io perché mi hai scambiato il coso quindi ce l'ho io quanto basso il ok fast guarda l'abbastardo la vix qua c'è della vita 30 secondi tutta l'arma è tolta una mia colpa madonna quante munizioni ah cazzo dove grazie grazie dai ricarica più fast niente il coglione va a cagare grazie mamma mia da lì devo toglierlo? adesso aprire e tagliare tra quanto ci vuole non è vero non è vero non è vero non è vero ok adesso deve far partire fa partire sto coso ok non è vero ma donna devo andare munizia fatta mi chiamano male che ogni munizia che raccolgo mi da un 20% del peso di Italia per ricaricare l'armor non è vero non è vero non è vero si ne ho raccolte una madonna non me ne ha fatta neanche una non è vero non è vero jesus down che bello mi sono tracciato non è vero non è vero non è vero non è vero non mi sono a passare sono morto eh anch'io oh no e dovevi detto che era Lorenz lo staggia a sinistra quello lì no 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 è buccato è buccato è buccato perché da altra non posso usarlo c'è pieno c'è pieno c'è pieno cosa vuole dai Dallas ho ancora vieni Dallas vieni io 50 secondi ok non ci sono abbiamo un momento di cosa puoi magari portare i brassoni non vedo il ok cazzo che non c'eravano tutti puttanaeva va bene va bene che sa che lancio inutile arriva un taser tutta vita devi avere tu ti sciola io 40 secondi ancora attenzione c'è un jug mamma mia svenuto resisti Lorenz 5 secondi io 70 secondi eh c'è il coso ti tiro giù devo ricaricare eh bu Dallas è ancora vivo no Dallas è vivo niente va bene dai basta ti ho rotto il cazzo ehhhh ho rotto il cazzo così violento lento ma violento oh torniamo alla mia normalissima cosa che non va errore di matchmaking cosa avevi avevi messo qualcosa da cercare no sono sono uscito cioè ho fatto il ritorno al menu mi ha fatto tre prove di matchmaking a caso ragazzi io vi ringrazio un sacco ericchino bello allora direi che ti ci aggiorniamo per venerdì allora se se boss ti dice qualcosa se dice che non c'è non so tu e Gabba che ora potete esserci eh se ti è ma è maggior che riusciamo a c'ha anche un'ora secondo me se te tanto riusciamo a partire va bene vediamo così allora ci aggiorniamo tanto domani tu ci sei per giocare si iiii Natale è Natale è Natale dai buonanotte ericchino notte e fanculo taurus ciao ciao notte Brains tu cosa vuoi fare di continuare qua o provare forza proviamo forza dai oh yes ti gioco il cazzo di questo gioco no perché no perché no 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 ah già devo aspettare che si scarichi leggermente quanto si potrebbe mettere a scaricare 6 mb al secondo dipende quanto è 14.4 giga no d'altro sì perché già se lo mettevo a scaricare è alla fine facciamo così vado a pisciare sennò rifletteremo payday ciao vado a dormire tu ma no ma cosa vai a dormire vado a dormire io domani mattina alle 7 meno un quarto devo rizzarmi ma cosa vai a dormire vado a pisciare comunque intanto arrivo intrattieni mi raccomando eh certo sì sì sono qua che guarda uuu come intrattengo uuu anzi prima di andare faccio così aspetta uuu come intrattengo si lo vedo sto anzi allora modalità studio catturo la finestra e si chi se ne frega eh questo qua va bene e e e e e e e come si faceva già vedere bloccante prima no Oh, spero si sia sentito No, non si è sentito niente, mi spiace C'è un gioco che è survival nuovo che giocano tutti, si chiama Unshrowded L'ho già sentito ma non mi ricordo Ok, guarda cosa è giunto la live così almeno per vedere anche tu Arrivo subito Intanto arrivo subito Intattieni chiaramente C'è il download lì Pensa te 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi là. Si vola. Allora intanto che scarica mettiamo un po' di musica. Intanto qua si vola. Vediamo, vediamo. Ti sembra il caso. Sono al 29%. Sì. Sì, non dovrebbe metterci tantissimo. Qualche prova la facciamo. E adesso sai cosa ti dico? Faccio il simpaticone, aspetta. Vediamo se... Come si chiamava già? Eleven Labs. Eh, si, niente. Non mi ricordo. E dai. Facciamo così. Eh, che sono intanto con Google, con GitHub. Sa, forse... Proviamo anche qua, lo è. Tiritiritirititim. Allora... Allora... Poi... Aprocciar GPT? E gli chiedo di farci delle barzellette. Allora, aspetta che devo aprire la live, allora. Da PC, così sento. Allora... Dio mio. Dio mio. Togliamo la musica. Come era voice setting? No, come era già... No, non ho voglia American. E ti muto un attimo da Discord. Va bene, va bene. Advoice, generative, era... Voice Library. Come facevo già a... Accent? No. Come facevo già a cambiare... Il... Tipologia di... Voce. Ah, eccolo qua. Level Multilingual. Perfetto. Easy. Chiamo... Chiamo... Poi funziona bene, forza. Ok. Aspetta che non sento niente. Dove sono? Dov'è la musica? Eh, non lo so. Eh, non lo so. Allora... Comunque, se magari... Mi è mosse le licette di fila. Divi quando ci sei, Lorenzo. Avanti. Non ci sono ancora. Perfetto. Madonna. Game, set, rock, 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 rock. è il numero uno mi senti? ti sento devo rifare prima questo un attimo 12 botti diversi si che generetti cosa ci vuole? perché l'elettricista sarà il verde? è il verde è il verde Io non ho parole, non ce n'era mezzo che ha nessun senso Vediamo se metto dei puntini, magari c'è più pausa tra una e l'altra Io ho già letto la prima ed è qualcosa di imbarazzante Quanto ci vuole generare su? Poi non ho capito perché l'elettricist essere al verde Che cazzo? Oh mio dio Non mi girare, sto scappiando Ma cosa vuol dire? Ma anche pensandolo in inglese Adesso metto questo qua, vediamo il letto Raccontami una storia e massimo 2500 caratteri Vediamo cosa mi dice E talto qua Ha ignorato la parte finale, la rimetto 52% intanto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Che è sempre più basso? Oh È vero Io adesso l'ho lozzato io ma Perché è più basso? Mi sta cambiando Grazie a tutti Grazie a tutti Non è finita ma non ho voglia di aspettare Scusami Perché nel corso d'opera cambia sia accento che volume? Ma Però eh Sì Tra l'altro strega strega Perché era un No striga Lo dice male ma è striga C'è anche C'è nel testo comunque Ok Vediamo Questo qua mi dice Faremo così Così dimmi un gioco Lorenzo Dimmi un gioco a caso Qualsiasi Un gioco The forest The forest Su Bene Ok Dai Dai Ci sta Come il protagonista Va bene Ma allora Ok 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 Grazie. Grazie a tutti. E mancano 4 giga e 4. Cosa? Mi sono ricordato. Ah, sì. Sì, ma tra un po' è mezzanotte. Vabbè, facciamo... Scusa? Ma no, no, ci mettiamo un poco. Eh, ma non è quello... Non ti sto dando la colpa, ti sto dicendo che io devo andare a dormire. No, non è vero. Vero, è vero. Dai, guardati qualcosa per te. Ma quando mi guardo... Proviamo, proviamo. Non ti sto dando la colpa. wow eh lo sospettavo e tanto 5 minuti neanche 5 minuti finisce proviamo un attimo e via eh ho capito ma è già mezzanotte Bornino io non posso fare tardi no non proviamo proviamo un'altra volta proviamo domani va bene sfigato provi tu provi tu ma no questo lo provo io lo scaricato per giocarci con te allora questo cancelliamo riblocchiamo l'anteprima domani aspetta sto diventando cretina tu sei bellissima ti tolgo da eh non ti mute ok tu finisciti il download poi domani lo proviamo adesso fai qualcosa per il tuo interesse mi seguo solo le tue foto ma fai tu andiamo un po' avanti con l'Eyes of P allora vuoi vedere 10 minuti di l'Eyes of P mi fumo una sezza guarda bravo dammi un titolo per l'Eyes of P la fabbrica l'ho finita c'è cazzo il villaggio mi ricordo ti sembra il caso? ma sai com'è? non capisco te la fai facile ma la faccio facile perché c'è gente che deve morire per vivere io le faccio facile perché so che sei forte e bello certo adesso ti silenzio di nuovo quindi ci sentiamo in ritardo è come addio potevi aspettare che il gioco partisse eccetera eccetera ma va bene addio addio amici addio addio tu l'hai battuto il boss Lorenza? no non l'ho più giocato perfetto la cazzo devo fare qua l'ho battuto il boss non c'ho tempo non c'ha tempo lui devo parlare con senti la voce di questo tu lo devi far sentire ma il senso si una volta si ma friend grazie grazie ma io ah qui l'ho l'uso allora eh non c'ho un cazzo da comprare lì quanti qualsi ho 11 fiale oh scusa 11 fatti che vengessi vado anche di là parabaparabaparabapararam dovrei poter andare più veloce quando sono qua eh si ma si fa mai toccare quel gatto? si hai tanta umanità i gatti odiano le le i pupazzi i pupazzi di neve allora mi fanno cagare forse è questo ma eh allora vediamo qua ci mi fanno cagare tutti io mio mi fanno cagare qualcosa mamma mia senti voilà papapapam pam 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 sa 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 ma come sa 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 domani ci mi fanno cagare con Anni il candy frame E' per farti vedere Se tu ci hai rotto lì dentro Fai boom Va bene, ok Ho tolto abbastanza Si, infatti Se guardi bene la mia vita Adesso Devo fare questo qua ma Se guardi bene la mia vita Impercettibilmente Ah, ti rigeneri? Esatto Impercettibilmente Ma mi rigenero Allora, fai Mi andare dietro là Sicuro c'è qualcosa qua dietro E quella mossa lì Che hai fatto prima E' quella che mi dicevi speciale E' l'attacco pesante Della Dell'arma Yes Guardalo lì Adesso sono molto più alto di te Come voce e volume Perfetto, va bene Adesso ti abbassa un pelino Allora Chissà se faccio così cosa cambia Molto più bassa, adesso ti sento Perché ho abbassato un po' il game Però tu, meglio che io non tocchi Alla guarda, abbasso tutta la chat Come si faceva qua Game, voice chat stream Eccolo qua Adesso si Prova Cavallo Cavallo Pallotti Cazzi Cazzi Voila Però Però Adesso sono un po' più basso di te Noi, cioè Un po' più basso mi va bene Basta che non sia Terrificantemente Molto da Sempre da mio microfono Perché se ci parlo bene Va bene Oh noo, chissà cosa farà quello Non me lo sarei mai rispettato Vero? Mai Guarda come se sono sporco tra l'altro Qua Chissà se quello si Va bene Non c'è nulla Vada Vai Oh Wow Non ce ne ho già una di queste Beh, ti serviranno qualcosa, no? È l'ormi doppie Non ne sono convinto Ah, era un'arma? Sì, vedi Anche queste qua Tipo Questo Deternamente Averne di più Ti permette Scusa Averne di più Ti aiuta A fare combinazioni E dai Che volevo fare Questa La vita qua Ho due armi Poi prendere in mano Cioè O tre Volendo ma È soddisfacente Fare L'attacco pesante In perry Bello, sì Oh noo È una situazione dietro l'altro È vero Pieter lunare della luna calante del patto Oh noo Sei l'ormu Io di nuovo questo è il fuoco Ma che palle Vieni, vieni No Mi stava facendo l'altro attacco Invece di fare l'attacco quello No, questo devo fare normale Ho già sbagliato Va bene Vieni, vieni Questo mi fa incazzare Eh, qua ho sbagliato io Si è un po' morto così È vero che tu Sei morto Perdonami Mi hai dato fuoco Quando ti dà fuoco Se rolli Passa più in fretta Ma Chiaramente Devi prima farlo passare Prima che smetta di farti danno Guarda che piedini stupidi che hai Poverino Mentre corri Mentre corri Tit 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 Vabbè sono piedi Piedini stupidi Ma guarda che sai qual era il chef più famoso dell'antico egitto dimmi dica Gordon Ramsay è bello il tempo qua comunque no? però riesco a fare delle battute più belle io di Gordon si beh ci fa poco eh ma perchè secondo me hanno senso in inglese cioè senso è un parolone però si credo che non capisco perché ma credo che siano tradotte da altre lingue si allora facciamo partire quello lì va bene già tanto si allunga il tiro mentre ok guardalo ma adesso sono veramente incapace eh l'ho visto volevo fargli il perisso di scaldamento questo che mi ha ucciso prima si si l'ho capito poi mentre ero rincolino ok almeno così non abbiamo più i caghe cazzo in giro comunque io non gli toggo un cazzo a questi eh va bene va bene si contando che loro con una mazzata ti massacrano è 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 si perfetto vedi il riscaldamento che è passando adesso rotolando io sveglio come un un fuso Poi anche facendogli ste cose non aveva l'uncato No E guarda questa è la tristezza Oh shit Te ne dà uguali Beh almeno sono cumulabili No Cioè in che senso cumulabili no Cioè se ne metto due si però che cazzo me ne faccio Cioè se ne metti due dello stesso tipo Hai pazienza no questo qua che è meglio Sì sì è una cazzata però Comunque non dovrei neanche succare così tanto quanto quelli Sì c'è che il new game plus poteva essere pensato meglio per gli oggetti Sì soprattutto vai un conto vabbè Le armi Guarda lì c'è lo stargazer di davanti Le armi ancora ancora Posso capirle Del resto puoi combinarle Puoi anche comprarne più di un tipo quindi ci sta Però il coso no Gli amuleti Si ci sta però fino a un certo punto Gli amuleti onestamente no Mi guarda che questo sia al Al 29 anche questo E' una moonlight shadow E fammi questa attacqua alle spalle Niente Allora come ci vado là sopra Da qua Deve poter salire qua invece no Eh no Eh no Eh volevi Beh sì volevo Un po' Solo ogni tanto eh Questo non l'avevo trovato Mi sono dimenticato di trovarlo Nozio Eh infatti Sviluppi più 6 Se solo fosse utile sviluppo Beh 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 Sia bonnino caro Dai Io vado a dormire Yes dai ci sentiamo per domani Per domani Yes ti aspetto con un caffè domani Eh Eh cazzo proprio E vuoi anche con quello eh Secondo te quanto è probabile che questo cada? Va bene caro Dai Beh Lorenzo allora ti ringrazio D'accordo Direi che ci sentiamo per domani Allora notte notte E fa un culo tutti Bene Non l'hai neanche ucciso? Ah ah Guardalo lì Tanto voglio andare a vedere anche qua sotto Di qua non c'è il cazzo? Ah Quindi in realtà mi conveniva cadere C'è più o meno Ok Ok Guida di Clara Luna Mi guarda che d'una Guarda che d'una Guarda che duna E se via a venire qua sopra Non mi ricordo Vabbè Tu Questa dove è uscito Questa dove è uscito Questa dove è uscito E' uscito è uscita i' uscita io? E' uscita il cazzo 1 Per ciò io mi esco No ma qui c'è il cazzo E' uscita il cazzo Ma che figlio di puttana, che serbio. E quanta gente, figa. Uff. Ok. In realtà non è che ne avessi tutta questa voglia di giocare a questo gioco, ma... Proviamo. Meglio. Ecco i danni. Beh. Di mezzo al fuoco è l'elettrico. C'è la scena di uno solo? Ma sì, dai. Prendimi se arriva. Come è morto quello? Di qua mi sembra che non si potesse andare alla fine, infatti. Tututu, 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 tututu. Anche di qua. Ma che? Che è successo? Boh. Ehi, la. E invece? Che vede la funicola, la funicola. Questa è la cattedrale allora, ok? Non è il villaggio. Questa è la cattedrale. Questa è la cattedrale. Questa è la cattedrale. Perra Perra I kid, I kid I kid, I kid Anyway, next stop The Bridge of Atonement While you atone there Don't miss a magnificent view A beautiful crott It's been my pleasure friends And enjoy the rest of your journey I've been your captain on this ride Gemini Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this No doubt, let Gemini be your guide You, uh... You look annoyed What I do Ah, I'm sure it's fine Let's get a move on, pal Ah, something's off Do you see that over there? I recognize dead puppets Ah Ma che cos'è quello? Eh... Perché questo? Niente No 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 idea what those things are, pal Approach with caution Va bene Ho sbagliato Dove essere facile, ma no Ma che cosa Fa bene Ma che cosa Ma che cosa Ma che cosa Ma che cosa Qua c'è qualcosa... Lui! Ma dai! Vabbè! Quanta strada ha fatto a fine riportata, guardano lì! Pa pa pa, pararam, pararam... Ok, per avere gli oggetti devo fare tutto il giro, va bene. Ok. Ok, ok. Pena Si vola What is happening? What's their problem? Wait, wait, their bodies are strangely altered. I don't know what's going on, but keep those eyes on yours open. It's not the end. I'm still hurt. I don't know. I really don't know. I don't know. I don't know. Abrasivo di fuego Era stata giusta? Dico no No dai Non penso che era stata giusta Ciao Mi nome è Janjo Mi sono able di usare un po' di scopo Scusate, sono arrivato Molte substanze Le freddo di freddo Puoi mi sapere se... Scusi. The people of ancient. I don't know if you can help me. It seems that they are a threat to me. The people of ancient. You... Ok, pesa leggermente di più, ma aumenta un sacco la frattura. Altri oggetti? Sì, guarda. Beh, c'era questo libro qua che posso anche leggere, ma... ... Uga, ciaka, uga, ciaka, uga. C'era... Mi sento già fare le video delle emoti. Il gesto. No, il re no, grazie. Che cucciola. Checcolo. Raspbiancare. Oh. 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 Grazie per la visione! il morbo pietrificante va bene ho sbagliato guarda bro quanto? l'ultima volta li son corso via forse non mi ricordo più il re voleva proteggere gli umani? c'è romeo? minchia romeo minchia romeo chi se lo ricordava? vabbè inutile spaccarli di tutti c'era una quest a qualche parte? non mi ricordo penso di no voilà torno subito ok appena riesco a trovare la schermata lì arrivo grazie a tutti grazie a tutti ti chiamo Grazie a tutti. 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 No... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma... E'... ... Ok Mi voglio non cadere Come dei polli Ma potevo lasciarlo lì Voilà Da qua non c'è un cazzo Ok Era stata giusta di qua? No non credo Un po' ma vediamo Facciamo che non ho voglia di farmi prendere a schiaffi Questa è la strada giusta Come di lava? Arrivo fino al fatto quando spingo il candelabro e poi mi basta Ok non c'era ancora va bene Non c'è niente Purtroppo fatta eh Queste palle Non c'è niente Ok Ah fì c'è già qua Magari Aspetta ancora un attimino C'erano oggetti Chissà Dove trovo Qua mi sembra ci fosse la shortcut da qualche parte Oh no Evidentemente no Questa è l'essere Orso Questa è la scuola Perchè Questa è la scuola oh no bene va bene lo dilato ma va bene ok tutto finto da prisi la scatola di rifornimenti della del tipo ahah boh gioco una mezz'oretta all'alto vediamo se funziona basta non so se giocano cioè cominciano a diventare pesantino questo gioco vediamo se qualche altra questa qualche parte prego spendo questa figa si subito che ne usa una quantità imbarazzante voilà allora vediamo è finito intanto vediamo questo gioco quanto è alto o no 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 sì voglio consentire no 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 ok ok vediamo Ciao Ho l'ho fatto un double level on the left, ah, fanculo. Ok. Ok, va bene. Vediamo, J e Enter. Tecnicamente il mouse non dovrebbe servire, ma vediamo. Che cazzo è Backspace? Dio mio! Ok, va bene. Ok, va bene. Voilà, proviamolo. Per un po', poi vediamo. Ok, sì, perfetto. Questa è il primo. E questa? Gasp! Dio mio, l'animazione! Dannazione, perché io? Non posso essere sgamato o non così? Per trovare qualcuno su cui affibbiare la colpa. Qualcuno come lui! Per far sembrare come lui l'avesse fatto. Quello che vi sapete è stato sgamato. Agosto... Agosto 3... 947... Ok. Defendent lobby. oddio sono nervoso oh ciao buongiorno capo sono contento tu ce l'avevi fatta in tempo beh devo dire phoenix sono impressionato va bene nessuno perde un caso di omicidio così bene però a favor certo bene tab ok per l'ho the ahha ah bella backspace i tell i be that it's so bad, my life, everything is so bella NIC! Come NIC? Ma non mi ha cambiato gioco? Sì! Dio quanto schifo fa sta cosa! Bisogna che il nome fosse Ace Attorney Noi! No! Il mio nome è Phoenix Wright. Ecco la storia. Il mio primo caso è un numero abbastanza semplice. Una giovane donna è stata uccisa nel suo appartamento. Il tizio che è stato arrestato era lo sfigato che lo stava scopando. Stava corteggiando. Larry Batts è il mio migliore amico fino a... dalle scuole medie. Quando qualcuno lo cosa puzza, sicuramente il buzz è possibile. Benissimo. Ma... E' solo quello che dovrei fare. A le 10. No, no. La sala di raccordi non è tutto, ma no. che naso perfetto ok, sì, vediamo benissimo la madonna il difensore sono io che cazzo dici? il difensore sono io no fanculo ricomincia che cazzo j che cazzo che cazzo Sì, 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 ti ne ho imprimuto. Adesso è una cazzina, ok? Perché non posso saltarlo. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. L'ho letto. Sì, 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 guarda la carta blanta oggette giusta Sì, vostro onore, mi sono right, dove e là, plant object, ok, ok, è pesante, right, ok, be sure to pay attention, sì, ratter heavy, ok, ok, Mr. Batz, understand, pay attention, ok, ok, Oh no, ecco appunto, eh, bastardo, ok, ok, la vittima, la passaporta della vittima, dammelo, Ah ecco, la passaporta del 7 e 30, lei è il giorno fine del murder, Sì, ok, basta, no way, Mmm, Buuuuude, I don't think you want to... Ok, quindi devo fare l'objection L'aspettiamo Quindi è stato un errore Ricominciamo di nuovo È come una sega sto gioco, mi dispiace Posso saltarlo? Ma no Sì, 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 Cindy Stone Dio mio Sussu Sì, 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 sì Sì, 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 sì Dai su, ok In this stone A cinder block Ok, andiamo ad arrivare fino a bloccarlo Sì, sì Stop him Eccolo, ok Vai zitto Ecco Ah, quindi è stato come un'ente inutile You went to the victim and pardon on the day of the murder Sì, di notte Cosa faccio? E poi provo a fermarlo, ma No Oh no Facciamo C'ho capito Almeno all'inizio voglio provare a farlo perfetto Figa Facciamo che salvo Perché mi sto spendendo le palle Vede 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 ooo yes ba da ba da ba da ba ba da ba da ba Quanta ciancia è sempre un gioco giapponese eh solo per cliccare lo blocco e poi salvo ok va bene option save veloce che segnale come e che cazzo ne so ho detto di dire la verità quindi eh si vabbè e Frank saw it oh no si vede adesso lui ok ok witness account ok 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 non 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 serve niente se sei morto tra le quattro e le cinque no 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 infatti cross cross examination cross examination ok cross examination the real deal non c'è la cosa andrà ok facciamo ok ok certo ok it's in the evidence devo usarlo ok ok e lo so come si vede la non posso vederla ma è comunque questa qua ok presenti ecco adesso no witness account ecco la barra in alto no no e uno pm lb pre scusa fa scusa b lb s i hijo Perfetto, vediamo. Objection? Oh, eh, eh. È triviale, non è vero? Non, no. E se sa lì. Ah, remember? No, sì, sì. Allora, vediamo se ci aggiungi qualcosa. Sicuramente sarà questo. The time of discovery, vediamo. I heard the time, there was a voice saying the time, ok? Non è possibile. Eh, ovviamente. Mhm. Certo. Fare prima uno, poi l'altro, chissà. Se faccio così? No, no, ok. Eh, lo so. Se posso usarlo in qualsiasi momento, vediamo. Ok. Via! Via! In qualsiasi momento lo posso fare, ok? Ah, wait, remember now! Beh, però... Ok, vediamo. Ok, vediamo. Sicuramente adesso è qualcosa che ha a che fare con... Saw it? Table clock? Table clock? Vabbè, ok. È un po' scemo, eh, però. Non è un po' scemo. Non è anche il giudice di santa. Non è anche il giudice di santa. Stiamo a fare... Mmm, ok. È un po' scemo. They ANSIL È un po' scemo, in Pat... Ma è lo proprio, è un po' scemo. Sì, non credo. Aspetta. Sì, non credo. 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 ove viena da 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 Objection! E invece? Così a caso? Ma come? Ma così? E se fa no Ma oddio Ma cazzo Tagliamo Che sono quelli a fare? Ho fatto due errori Ma infatti Sì, questo è chiaro Sì, infatti Sì, poteva passare tipo... intendevo spark di sangue. Cazzo, cosa vuole il sounding? Andiamo. Va. È tre ore di distanza. Dan dan dan. Beh, è molto circostanziale, ma è vero. Non ho idea. Faccio. Non lo posso fare. Indicata. Come faccio? Eeeh, non lo posso fare. No. Non capisco che sia quello indicato in alto. Eh no, era giusto il sounding, ma ok. Eeeh. Che cazzo. Vabbè. Ma così? Che cucciola. Ehi... Mi chiede... Ehi... Sì. Ma non so dove siamo. Come faccio? Come faccio? Take that! Come ti è trovare la cosa? Come faccio? Devo pisciare, sto bevendo troppo acqua, arrivo. Per un po' di pensato che si era buono. Come faccio? Grazie a tutti. 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 Okay. Oh no Tutto ciò dopo il video Ok Eh Cucciolo Non credo Beh, oddio Sì Sì Tecnicamente il cliente deve pedirtelo Per essere sicuro Va bene Ecco vediamo Zan zan Le phoenix white si bomba al capo Genic Ma com'è? Zan zan Ehm Addirittura Ma come di end? Ah di questi episodi Ok Beh figa, sì Sì, bene Hello Maia Che sei maia? Mia Che sa Sua sorella Ma C'è ancora una mezz'oretta Vediamo C'è ancora una mezz'oretta Ehm Sì Ecco, infatti, sorella. What? Zunite, ma poi prima? Sì, 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 sì. Muore. E ecco, low offices. Madame Limita, cogniferous? E neanche il tempo di bombarla. Ed, white, blue. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Esamini cosa? Lo devo esaminare Posso il mouse? Un po' meglio per questo ma Mi farà vedere Mi ha in mente Ehm, ok Perdo Si Si, la sedele Eh oh Eh oh Ok, diventa giallo Shadowglass, ok Cazzo me ne frega Eh Slide, ah ok Dio minuto computer Dov'è sepperti cosa me ne dovrebbe fregare di questa cosa Oh ma f***a volevo Ok F***e Oh no Asstexto di Matrix Acumissimate Ok 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 Sì, sì. ah ok se esamino qualcosa che ho già visto perché non c'è niente mi dice quello già ok eh ok 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 Ok... è questa? Ah, l'ho desco, ok. Vediamoci che era fatta per giocarci su un TDS, quindi... Ok, che me ne faccio? Ok... Otello... ok... Eh... Questo ho dovuto guardare che è cambiato da prima... Novo... È inverno... Maia... Eh, che cazzo nessuno ti prego... Ok... 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 Stare nel suo ufficio presente... Devo farlo per forza... Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non credo. Devo farlo per forza. Vabbè. Voilà. Vabbè, io salvo, poi vediamo. No, no. Vediamo un certo che sono io, vediamo cosa mi dice. Ma come? La caratteristica è no, dai figa. Doveva essere g... Allegra. Beh. Dun-dun. Adettura. Dun-dun. Tre anni, invece no. Eh, si vuole. Esamina. Luce niente, red bar niente, la sedia niente, il pulotto. Ok, carattercord, niente, profile. Polk, maia. Oh no. Accoliti. Oddio. Ok. Ok. con me. Ah, ok. Un cell phone? Ok. Cuccio. Va bene, vediamo. Devo presentargli la probabilmente. Ok. The Fae Family. Ehi, addirittura. Ma cos'ha? Ma poi che cosa vuol dire? Dimmi, dimmi. E sono io il tuo? Scusami, eh. Allora, aspetta un attimo. Qual'era questo? No. Sotto questo. Francazzi, non mi dice. Lo skip deve essere un po' più facile. Dove non è. Move dove mi fa andare? Ok, di là? Va bene. Ok. Vediamo cosa mi dice. Mi dico di no. Oh no, dai, sì. Oh no. a me. Ok, va bene. Sì, non è mai. Nessun attimo, venni un po' più facile… Sì, non è mai. Sì, grazie. Beh sì, ho visto il cattivo. Ok, move. Allora, aspetta, salviamo perché... Gliela vedere qua c'è qua, da me. The buff guy. Ma come? Eeeh. Detective Gamsho. E quello che ho detto io? Ah, ok. Coglione. 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 ficus non è vero è ficus e niente qua giusto c'è esattamente quello che gli ho chiesto ma va bene 9 5 le 9 sera non mi ha dato il foglio ok va bene bastarda ma com'è vediamo siamo un po stupido però non si beviamo vediamo se gli dico la verità cosa mi succede per favore vediamo ma che testetta almeno non sembra un coglione ok va bene va bene vediamo subito whatsapp even calling in a while vediamo anche quello che hai detto prima vediamo la immaginazione ok vediamo la immaginazione ok miss apple in me ciao no va bene che stupido vediamo cosa mi rispetto adesso per qua Va bene. Va bene. Ok, ah, non viene il bookshelf, ok. Aia, dai, non volevo. Pollice di plaster. Fata. Ok. Ma non posso, ah, posso tornarci, ok, in caso. Vediamo cosa mi dice. È appena andato. Andiamo al gateway hotel. Però. Paltichi. Ma come? Allora, cominciamo con questo. No. Aha, sì. Ok. Ok. Nice. Bravo. Ma com'è? Sì, sì. Riprovo. Maybe later. I move? Ok. Paravanti e indietro. Talk. Sì, sì, immagino. Sì, sì, immagino. Paravanti. Mi smèi. Sì. It's alright. Oh, boy. che va basta non c'è che c'è questo fatto non sto comprendendo molto sbagliato e me ne vado allora ok va bene va bene ok ah cia cia ah lui il no aspetta e se gli faccio vedere il foglio o no? è un figlio di troia quindi ok 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 e invece aham attendo che sa lui ok 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 non c'ho voglia di guardare i core move andiamo a thumb maia mia che cazzo è questa ma come sono io ok ok alle 9 ok rovinat rovinat Guaita? Posso farlo? Non lo voglio fare, però... No, vabbè, fa' il culo, mi sentite un po' così, figurati. E invece sì, non funziona così, ma ok. Giuseppe mi dice adesso. Número 1. Ma... 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 No, non volevo... Ma... 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 Non sarà più la tipa, ok. The Bellboy. E' facile... Mmh, dovrebbe uscire dalla stanza. Non funziona così male. Ahia Mi è stato guai Eh eh, questo l'ho sentito Allora posso cambiare qualcosa Se vede cerco qualcosa Quattro 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 Aham Aham Come to be continued Ma come funzionano queste cose? Sì, allora Ah è carino Comunque ragazzuoli Direi che Come faccio a spegnere? Vabbè Ando un po' avanti Finisco questo Cosa qua allora Ma no Ma è lui È quello dei meme E' quanta gente qua Tan 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 Il 24 anni 26 anni che me ne abbia 35 Vediamo E' un po' di E mi dice che sei l'intero circo E mi non sai che sei l'intero circo E mi non sai che sei l'intero circo E mi sembra che sei l'intero circo Ma è quello che stai Non è lo stesso Per di È un po' di Un po' di Ho sbagliato, vedete, che flotta la map, ok, 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 giudice, ok, vediamo subito, non ho sbagliato, va bene, non la posso vedere così, ah, qua è quello che si vede dall'hotel, non ho idea se c'era, vabbè, vediamo, vediamo, ma non è vero, ok, vediamo, ok, non so come, mi faccio a... Ok, non è vero, ok, quindi lb, cominciamo a salvare, va che qua... Ok, vediamo, quindi lb tutta sempre. Ok, gatewater hotel, ok. 3 minuti, però... Tutto gli chiedo... In effetti, il piclozza, vabbè, in effetti, piuttosto, c'è ragione, e anche te. Ah, ma ho un numero limitato di cose, no? Oh no, ok, lui ha del dizio là. Sì, è stato inutile. Adesso devo presentare qualcosa? Vediamo. Ah, non è... Ok, è un testimonio, ok. Non è molto hard evidence, ma ok. Ok, adesso che cazzo devo fare? Posso salvare adesso? No, dove si posso? Sì. 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 In realtà, sì. No, non ho detto. Eccolo lì. No, allora Allora, vediamo se Cambia qualcosa Miss May, che se Miss May No, non ti apri il May Ok Ok Proviamo, vediamo se cambia qualcosa Dio mio, che cringe Quindi questo lo schifo Ok Ok, bene Aspetta Hm, infatti Non so se sta andando bene o sta andando male Non so se sta andando male Ricordo Non so se sta andando male Ok Eccolo qua Ok ok Eccolo 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 Aia Aia Anni vincere No, 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 cos'è? Ah, e poi sì, le risposte gli davano a questo, ok Certo E' chiaramente finto, ma va bene Va bene, così No, non è vero, ma ok Vediamo Innocent girl, oddio Guarda, guarda, non è girl Ma Ma No, non volevo caricare Beh, come fosse difficile Timber E non ho più la danfa, così Sì Ok, sì Non ho più la data That's alive Run away Come è possibile E' aspettato che io arrivassi Non è vero Ovviamente no Vediamo Vediamo Perché mi smedicita a Poloni Ma scusami Allora vediamo Allora vediamo Ecco Non funziona così Che ho fatto? Vediamo Ma Quindi no, schifo. Andiamo. Poing. Deck down. Ma come? Allora, leggiamoli bene tutti. Non ha parlato di questo, ma ok. Department stories. Dove l'ha vista attaccare? Quanto? 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 Vieni a tutti! No, 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 no. Adesso, vediamo. Di nuovo, ok. Quindi si ricomincia da capo adesso. Ok. Dodge the first attacker on the right. The hippie cloth. E come faceva a sapere? Non lo fa nessuno che non lo blocca. Allora, serviamo qua, va? Non so quali sono quelle icone in alto, però. Ma non è vero. Vedere. Early? Ok, to the right. Però glielo chiudo lo stesso. E' una statua. E' una statua. E' un fatto. Vediamo cosa mi dice. no ok 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 cool cool no No, no, no... Ush! Come è possibile? Ovviamente no! Eh, figa, è la stessa volta! Salviamo, vediamo cosa mi dice... Senti! Fatta! Eh, capuno! No, 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 no! Ecco lì, il circo! Eh, no! Questa è quando hai la telefonata, figa! No! Eh, eh, eh! Ho, ho! Eh, 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 eh! Eh, 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 eh... Ma io non mi fai un bel l'ecchoso, ok? Per favore. Per favore. Per favore. Per favore. Oh no. Ovviamente si. Ok. Oh no. Ecco la sync hat, cosa stiamo facendo? Ecco, giapponese questo gioco, eh. guardate cosi dice o no? non ho capito tan 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 è un po' è un po' vediamo cosa dice no, you are dirty about it non ho capito non ho capito non ho capito guarda guarda non ho capito guarda non ho capito Ma cos'è? Whaaat? Mi sbatte sempre le mani Giusto per controllare eh E tells you the time and clock Cos'è te la dice C'è Si Fai 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 la 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 ma come non è in ganging, è l'uno contro l'altro non è vero, ok, è bene ma come non mi ricordo più, mi ha cambiato il coso va bene vabbè e non ti ho mica chiesto eh non ho questa nonna idea, vediamo aspetta chi te ne frega vediamo no ok non so se è stata una cagata ma non credo ma allora, vediamo e salviamo vediamo non è che mi è molto chiaro ok non c'è niente ma non c'è niente non c'è niente No bien. ... ... ... ... ... Ehm. Ehm, che è che quando ha dato qualcosa. E mi sembra strano ma ok Ho qualche prova che mi dica qualcos'altro Non credo Infatti che sembra di cattivo ma ok Questa è l'imbraccio Questa è l'imbraccio Andiamo Andiamo Ok Vediamo Save Abbiamo service comunque penso Ok Ecco infatti Ok 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 Amate ma come Mi diamo un tuturna sta cosa Mi mandi delle tre dai Lo devo pisciare mi spiace arrivo Grazie 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 Eccomi qua Really? Sì sì dai Ma come Non osare Non ancora A lead Ok Ok Perfetto Pensavo continuasse Perfetto Ok Pensavo continuasse Ok Perfetto Pensavo continuasse Yes Pallo nell'uno E dire ai ragazzi Che è arrivato il momento Per me di andare Faccio così Fixed Voilà Ragazzuoli È stato un piacere E direi che ci sentiamo domani Penso E vediamo Forse con forza